È il più maturo di turismi a sfondo ambientale, con un volume d'affari di 44 miliardi l'anno in Europa che coinvolge soprattutto il nord, ma sta arrivando anche in Abruzzo. La Camera di Commercio di Chieti, assieme a Lega Ambiente e Vivi l'Italia, mira a intercettare questo flusso turistico con corsi di formazione. Dopo il successo riscosso con la prima edizione, a febbraio prossimo si svolgerà il nuovo corso tenuto dall'Alta Scuola di Turismo Ambientale interamente dedicata al cicloturismo. Una settimana intensiva dal 17 al 23 febbraio, ricca di appuntamenti con esperti di settore e protagonisti di esperienze di successo, dalle Cinque Terre alla Sardegna all'Appennino Tosco-Emiliano, in attesa della nascente via verde della costa dei Trabocchi. Sebastiano Venneri, presidente di Vivi l'Italia. Il cicloturismo è il più maturo dei turismi ambientali, sta conoscendo un vero e proprio boom. In Europa si parla di un giro d'affari di 44 miliardi di euro, 5 milioni di tedeschi l'anno scorso sono andati in vacanza in bicicletta, l'Italia fa circa 2 miliardi di euro di fatturato con una prospettiva di crescita fino a 3 miliardi a 2. Quindi c'è ancora un grande prospettiva davanti lo sviluppo del cicloturismo e quindi trovarsi preparati per vincere questa scommessa, come sta facendo la regione Abruzzo, la provincia di Chieti, con la realizzazione della via verde, secondo me è una posizione di vantaggio eccezionale. Il corso è rivolto a 30 operatori del turismo. La prima edizione, sottolinea il presidente della Camera di Commercio di Chieti, Roberto Di Vincenzo, ha messo in contatto per la prima volta i vari operatori economici del territorio. L'altro elemento che è accaduto di grande importanza è che gli operatori si sono conosciuti da di loro, sembra banale, ma le persone quando si conoscono si scambiano delle opinioni, incominciano a cooperare e quindi incominciano a fare quella che è una delle operazioni fondamentali indispensabili per la costruzione di un prodotto turistico territoriale, avere identità di vedute e capacità di presentarsi in una maniera collettiva, perché il turismo territoriale è complesso proprio per questa ragione, perché è un insieme di servizi che vengono prestati da più soggetti e che solo se hanno una modalità comune, un'identità comune, una capacità comune di rappresentazione, riescono a dare l'idea di un prodotto unico e qualificato. Questo è quello che chiede il turista oggi e noi stiamo avviandoci su questo percorso.